e bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi ci troviamo su un ho messo tedesco ci troviamo su un gioco particolare ovvero resident evil dovrebbe essere due resident evil ci appena sia immagino la sinistra prima di stazione di polizia quindi il compagno non ce l'abbiamo è rpd infatti per leon che doveva essere soltanto una breve sosta l'ultima formato la stazione di servizio per la felicità dobbiamo leggerla tutta giungerà con siti ma è subito costretto a separarsi a causa di un incidente per evitare numeri per i pericoli leone 3 hours later a giustare la considerazione sicuro quindi parte da quando siamo nel nostro palazzo fino a quando arrivano la stazione di polizia si attende no e no siamo già ehi la non c'è nessuno non credo però non lo so vedi te vi ricordo che sono un poliziotto sono armato è preparato a tutto tranne jumpscare quello è un poliziotto è un poliziotto è un poliziotto è un poliziotto ma non c'è nessuno a 10.000 le cose e corso possibile non è una mila Scocci deve andare a trovare la cosa Una mia Che google Un attimino Andiamo qui Quale sarà la combinazione Di Resident Evil 2 RPD Non mi ricordo proprio Allora qui Non c'è niente Andiamo qui Sfonda Non ha capito Mi sa Mi sembra la apre E spingila Dillo è chiusa Non puoi solamente gesticolare Perché dà fastidio alle persone Che tu gesticoli Proviamoci Allora lo scudo Insieme a un'aquila Fanno una grossa freccia No Scudo Aquila grano Allora lo scudo hello ma non la puoi sfondare un calcio ci vuole non è che ti ho chiesto tanto no perchè l'hai caricata tu hai caricato una pistola veramente per un colpo speriamo che siamo fortunati come fa vg qualcosa qui c'è computer eh ti metti a giocare eccolo lì uomo se lo mangiarono te l'hanno mangiato mentre tu fai queste cose perché tu ragioni se lo sono mangiato e l'hanno pure digerito apri mappa e io devo andare mo di qua ok capito 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 apri inventario si è normale è normale ma devo andare da quest'altro l'hanno police io mi infilo pure però c'è un po' c'è un po' di sangue non per dire mmm che guai ti metti Leon salto dai anche guai si va a mettere quest'altro si però sempre atletico sei coraggio si si fattelo venire un po' di coraggio dove stiamo vienno dove andrà la guardiola opp la buttati nella guardiola che è di fronte a te a destra sinistra boh di destra aprite vi prego aprite aprite questa cazzo di casa io aprirei pure solo che non ho le chiavi ti faccio uscire poi metto sotto dammi una mano che penso ma ce lo mangiano non è che scelta esiste buon appetito almeno dammi la mia almeno dammi la mia diffusa però chiudila preferirei chiudere la serrante schifo da qui e dalla gente ciao buona giornata madonna santa no 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 iiii no 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 spara merda merda veramente ragazzi ragioniamo sono ovunque no 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 amore di papà levati appapino tu mori lì io me ne vado da qui va bene idea di tutti però comune ti voglio che te mannano pure a te eh eh lo penso pure io bippa pure questa signora dai amico per ora grazie marvin brana leon kennedy c'era un altro agente io non alzati alzati e cammina sono certo che hai fatto del tuo meglio leon qualcuno sa com'è iniziato non ne ho idea ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione avrei dovuto conoscere la scorsa settimana ma hanno rimandato se fossi arrivato prima ma ora sei qui leon il resto non conta ok tenente pronto forse potrai uscire vivo dalla centrale la gente che hai incontrato eliot credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto ma è perfetto la porterò all'ospedale no io non sono una priorità ora tenente io non la lascerò questo è un ordine recluta devi pensare a salvarti verrei con te ma ti rallenterei ora prendi questo non posso prenderlo zitto e non fare il mio errore se incontri uno di quei cosi con la divisa o meno tu non esitare o li ammazzi o scappi chiaro? sì signora agli ordini signora speriamo che lui sta morendo è andato coltello da combattimento tu col giubbotto antiproiettili ti sei fatto uccidere sì però dovrei andare tenente tutto ok? allora non è così che immaginavo il primo giusto manco io tu raccogli tutto te l'ha detto pure lui dobbiamo scolare hands up join us vai va bene ragazzi questa demo non ce la riusciremo a finire per oggi quindi da karate 10 out